e adesso io inviterei per uno spaccato di vita medievale diverso due coniugi entrambi molto bellicosi, chiamerei Angelo e Sara, Sara è una mugnaia, ha un marito particolare, un marito che ama molto il vino, i dati e le donne, in genere le taverne e quindi lei lavora e lui spende, adesso arriva l'inverno, Sara sa che sarà duro e chiede al marito di rinunciare al vino, ma siccome lui non vuole, lei si è decisa a fare l'unica cosa che una donna in quel momento può fare, ricorre alla violenza, alla stana violenza, prego. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Donne, prendete esempio. Lo devo lasciare? E finisco tutti e due? Sì! Correte via se piove, nel nostro sito! Grazie